buongiorno ragazzi buongiorno benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero questa lettura è valida per il momento in cui voi la vedete e se invece volete una lettura privata perché volete andare a sbirciare proprio i fatti vostri allora io vi consiglio di prenotare tramite sito internet o tramite email insomma avete un po tutti i numeri e gli indirizzi sparpagliati qua in giro sono cadute queste carte io direi di tenerle anche se sono 5 perché mi sa che vogliono parlare quindi teniamole e vediamo un po che cosa accadrà oggi o nei giorni intorno ad oggi come sempre io invito i miei studenti a mettere in pausa oggi facciamo lettura da mazzo misto quindi molto intuitiva scrivete nei commenti se avete voglia le vostre interpretazioni e noi cominciamo cominciamo con un anziano di spade che poi passa la palla a un 4 di coppe dopodiché entra in campo il 9 di spade insieme all'otto di spade e a una bellissima una bellissima a un fante di spade un bellissimo fante di spade cominciamo quindi vediamo un po che cosa sta accadendo allora l'anziano di spade lo dice la parola stessa è anziano è stanco è vecchietto che cosa vuol dire quindi anziano anziano può essere interpretato in diversi modi o in termini di saggezza e quindi l'anziano è la persona saggia che sa usare bene l'elemento spade quindi l'elemento aria oppure l'anziano è una persona stanca è una persona che usa questo elemento magari anche molto bene però con una certa stanchezza l'anziano potremmo essere noi che ci sentiamo in un certo senso molto saggi che in un certo senso ci sentiamo come dire pensiamo di avere tanta esperienza su certi argomenti su certi temi su certe cose che ci sono successe e che ci stanno succedendo e quindi ecco che l'essere anziano è sinonimo di esperienza potremmo essere noi che sappiamo benissimo cosa pensare o come dire le cose proprio perché ne abbiamo una grande esperienza o qualcuno potrebbe esserlo nei nostri confronti infine ovvio ovviamente c'è anche sempre quest'opzione qualcuno che nei nostri confronti si comporta da anziano di spade quindi magari una persona a cui noi chiediamo consiglio una persona saggia che sa appunto consigliarci quello che è meglio e che sa darci dei suggerimenti tra l'altro credo anche che si tratti o di una persona o di una parte di noi che noi utilizziamo poco ora non è che con questo voglio dire che noi non siamo saggi per carità e fra di voi lo so benissimo è come se c'è tanta saggezza ma ma dobbiamo ammettere che certi lati di noi o certe amicizie le tiriamo fuori dal cappello solo quando davvero siamo disperati solo quando non abbiamo alternative o solo quando ci rendiamo davvero conto che è importante in questo caso in questo momento agire in un certo modo quindi ecco che questo questa energia da persona che sa parlare che sa pensare che sa comunicare che sa dire le cose che sa riflettere sa fare piani progetti programmi è un'energia che in questo contesto non esce molto spesso è il motivo per cui ve lo dico sempre ragazzi consideriamo che sto facendo una lettura intuitiva guardate la carta questa è una carta in cui quest'uomo questo anziano si trova in mezzo a un paesaggio innevato un paesaggio naturale ma brullo spoglio ora in termini appunto metafi metaforici possiamo dire che il freddo è spesso associato a un senso di solitudine anche in psicosomatica in metamedicina il freddo è associato a un senso di solitudine dunque ecco che perché questo personaggio dovrebbe trovarsi al freddo in mezzo alla neve con quattro uccellini anzi nemmeno abbiamo proprio una famiglia di uccellini che stanno cercando di sopravvivere al freddo perché evidentemente questa è una parte di noi sola che noi non tiriamo fuori spesso che noi non mettiamo in gioco molto spesso ed ecco che appunto a livello intuitivo questo freddo mi ha fatto pensare al non sfruttare determinate capacità con una certa frequenza dopo abbiamo un quindi sembra che comunque questo suggerimento che ci arriva o da questa persona da questa amicizia da questa persona più saggia e più anziana o da questa parte saggia di noi stessi comunque questo suggerimento in realtà è un quattro di coppe non è gran cosa può andar bene ma può andar bene solo in parte non è quello che ci aspettavamo non è quello che vogliamo ecco mettiamola così vorremmo qualcosa di più vorremmo spremere le nostre meningi per tirare fuori qualcosa di più ma non è così semplice quindi ecco che abbiamo questo quattro di coppe abbiamo un'opzione quindi pensando pensando parlando parlando rimuginando rimuginando quello che esce un'opzione un bel quattro di coppe che tra l'altro sembra anche un'opzione abbastanza attraente abbastanza accattivante sembra un'opzione discreta da cosa lo deduco sempre faccio riferimento qui ai miei studenti se noi guardiamo coppa che rappresenta appunto il nostro quattro la nostra quarta coppa oltre alle tre coppe che ci sono qui sul picnic è una coppa molto bella è una coppa piena di gioielli preziosi di colore dorato quindi probabilmente magari è d'oro o comunque è preziosa e anche se questa ragazza non sembra super soddisfatta di ciò che ha non possiamo però non ammettere che è proprio una gran bella coppa quindi qualunque soluzione noi troviamo qualunque cosa pensiero parola qualunque cosa esca da questa genialità di anziani di spade in realtà non è poi così male forse dovremmo essere appunto un po più contenti di quello che riusciamo a tirar fuori dopodiché passiamo a un 9 di spade e a un 8 di spade quindi faccio una breve parentesi per i miei studenti di secondo livello di tarologia avanzata noi passiamo abbiamo due carte di spade ma queste due carte di spade anziché andare avanti in numericamente tornano indietro quindi dal 9 passiamo all'otto piuttosto che al 10 cosa significa innanzitutto significa che noi possiamo abbinare queste due carte perché come abbiamo imparato nel secondo livello due carte dello stesso segno vicine possono facilmente essere abbinate quindi un 9 che sta a parlare di preoccupazioni rimpianti lotto sta a parlare magari di problemi gabbie e se noi li mettiamo insieme fanno un 17 il 17 numero logicamente viene ridotto di nuovo a 8 quindi noi in teoria abbiamo un'energia da 8 ridondante e ci basta guardare la carta dell'otto per comprendere come questo messaggio viene amplificato ma ritorniamo un attimino indietro e vediamo che ha un'altra cosa appunto stavo dicendo che passando da una carta superiore a una carta con un numero inferiore sembra quasi che i nostri personaggi cioè noi che siamo i protagonisti di questi oracoli sembra che facciamo dei passi indietro a volte non è sempre male fare dei passi indietro tornare al numero precedente piuttosto che avanzare a volte ci può servire a capire meglio a scegliere bene a vedere la realtà da un passo indietro da un altro punto di vista ora con questo 9 di spade questo 8 di spade quello che vediamo è che dopo aver riflettuto tanto e avere trovato una soluzione un'idea un qualcosa comunque sembra che abbiamo un rimpianto abbiamo dei rimorsi qualcosa che riguarda il passato qualcosa che è finita nel passato che abbiamo chiuso e questo di questo qualcosa dobbiamo dire la verità non ce ne siamo ancora liberati perché l'otto ci parla appunto del fatto che le emozioni ci fanno ancora sentire in un certo senso ingabbiati ci fanno ancora sentire che siamo vittime di queste stesse emozioni quindi ricapitolando se qualcuno ci dà un suggerimento o noi scegliamo di far qualcosa o qualcuno si fa vivo si fa sentire ecco potrebbe anche essere ragazzi che qualcuno si fa vivo e si fa sentire dal passato assolutamente si potrebbe essere ecco che questo rifarsi vivo dal passato o questa idea che ci viene in mente relativa a qualcuno o a qualcosa del passato ci fa ancora sentire un po in gabbia un po legati un po lì siamo rimasti ancora lì ed ecco che con questo fante di spade noi troviamo una risposta se questo anziano che corrisponde a un re si fa vivo oggi e ci dice qualcosa e risveglia in noi delle emozioni che sembravano sopite morte ecco che noi magari riflettiamo un attimo ci sentiamo magari anche in difficoltà con queste carte di spade che rappresentano i nostri le nostre preoccupazioni ma alla fine ce ne usciamo alla grandissima guardate questa carta una giovane donna quindi nel pieno delle forze sicura di sé che domina l'elemento spade e che trova la risposta giusta quindi ci vengono a dire qualcosa qualcuno si fa sentire ritorniamo ripiombiamo nelle emozioni beh sì basta pensarci un attimo però ed ecco la risposta se invece questi siamo noi che pensiamo che abbiamo idee che cerchiamo suggerimenti e che alla fine decidiamo comunque di rimuginare sul passato ce ne usciamo puliti comunque ce ne usciamo puliti con una grande forza interiore e allora vediamo adesso un po che cosa gli angeli hanno da aggiungere se hanno qualcosa da aggiungere a questa stesa prendiamo quindi eccola qui la nostra cartina e qui abbiamo un paggio d'aria che corrisponde a questa carta quindi abbiamo un'energia ridondante di paggio d'aria o fante di spade abbiamo tanta energia di spade da quello che vedete abbiamo il re di spade abbiamo due carte di spade arcani minori e abbiamo queste due carte che corrispondono a spade l'unica carta di coppia è un quattro quindi le emozioni stanno lì ma non sono proprio appaganti invece di aria ne abbiamo da vendere e allora andiamo a vedere però questo paggio di aria che cosa ci dice notizie e beh ecco che arrivano appunto sì infatti da qua arrivano da qua questa è la notizia e questo potrebbe essere colui o colei che ci dà la notizia a meno che noi la notizia non la capiamo da soli e allora saltiamo il passaggio notizie sì notizie che potrebbero metterci in difficoltà potrebbero non essere proprio gradevoli notizie relative a ritardi o cambiamenti di programma o qualcuno che potrebbe dire qualcosa senza tatto senza delicatezza e ragazzi sono curiosa di vedere nei vostri commenti che cosa realmente sta accadendo oggi in questi giorni e per il resto spero come sempre di esservi stata utile e ci vediamo domani